C'è la guerra per la successione al capo clan della Sacra Corona Unita Roberto Nisi, dietro la striscia di piombo e di paura che ha travolto Lecce e il territorio salentino negli ultimi mesi. La squadra mobile ha fatto luce su una serie di sparatori e tentativi di omicidi riconducibili ad una lotta all'interno dello stesso gruppo criminale. Quattro le persone arrestate con l'accusa di associazione mafiosa. In manette sono finiti Davide Vadacca, 31 anni, di Lecce, arrestato a Pompei Dovere in vacanza, Alessio Belanova, 28enne, leccese, Salvatore Notarnicola, 32 anni, di Torcherolo, Luca Dattis, 34enne, di Lecce. Secondo l'accusa, i quattro avrebbero favorito la latitanza del boss Roberto Nisi fino al maggio 2012, giorno del suo arresto a Roma. Vadacca avrebbe poi assunto le funzioni di organizzatore sul territorio leccese nel traffico di droga, nelle estorsioni e nel mantenimento dei detenuti e dei latitanti, scatenando così la guerra intestina all'interno dello stesso gruppo criminale. Le ordinanze riguardano il 416 bis, cioè la partecipazione ad un'associazione di tipo mafioso e questi fatti sono esclusi dal contenuto dell'ordinanza. Però è verosimile che queste persone siano coinvolte, il lavoro è ben indirizzato, la strada non dovrebbe essere lunga e la gente può essere tranquilla. In un'altra operazione della Dia di Lecce in provincia di Brindisi sono stati invece sequestrati beni immobili e immobili, tra cui anche una dimora padronale del valore complessivo di 1.200.000 euro riconducibili a Giancarlo Capobianco, di 50 anni, in prentore edile pregiudicato di Francavilla Fontana, referente della Sacra Coranunita mesagnese, condannato in primo grado ad 8 anni di reclusione per associazione per delinquere di stampo mafioso e per acquisto e detenzione di armi da guerra.